Giosi Boggio è la sindaca di San Giusto Canavese. L'intesa istituzionale oggi avvia un'iter che dà un segnale forte alla sua comunità. Sì, sicuramente. È un segnale di grande vicinanza delle istituzioni al nostro paese ed è un segnale che trasforma l'io in noi ed è a nostro avviso l'unico modo per poter confrontarci e per poter sconfiggere queste associazioni criminali.